BELLA A TUTTI DA WORKMODZ Ok Raga facciamo un po' i spericolati Per lo Santos che dite Io direi proprio di si Oh se infila qua Oh mio dio raga Dobbiamo fare attenzione ci dobbiamo infilare qua Oh questa girata all'ultimo Infiliamoci qua Mamma mia raga perfetto perfetto Che l'hai aspettato No E vabbè cos'è volato Cascato qui Che poi la voglio provare pure nella mega rampa Voglio vedere come si comporta E te proprio qua devi girare Ardalo Ok passiamo qui Allora Cerchiamo di andare belli veloci Belli rapidi Ok qua ci dovrebbe essere l'autostrada Anzi questa stradina è fantastica Facciamo questa qui raga Andiamo andiamo E' favolosa E' gigantesca Super lunga Però c'è pure la tenenza E questa è una cosa strana Oh ho parlato Ho parlato raga Primo incidente con la limousine Rimettete bene Ok Dove possiamo andare? Al ponticello raga Io direi di si Punto romano Ok raga Siamo arrivati al ponticello Ok adesso dobbiamo guidare bene raga Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Spericolati Oh 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 raga E' peggio di un voleride fino Passare in mezzo alle macchine Con questa limousine gigantesca E la miseria Quanti camion ci sono oggi? Oh 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 Non ho mai visti così tanti camion Aiuto Siamo vivi Siamo vivi tranquilli Allora Proseguiamo Secondo me la mica rampa E' ultra facile Con questa limousine Che dite? Io direi proprio di si Ok E' lunghissima raga E' veramente difficile fare i sorpassi Oh Gira poco eh Però siamo vivi Guardate che roba A parte che stiamo andando velocissimi Perché ho la velocità Cioè ho aumentato la velocità Nello scorso video Ed è una velocità esteremo raga Perché la macchina è gigantesca Con questa visuale Nemmeno sembra che stiamo andando veloci E guardiamo E la miseria Super super veloci Allora così non sembra Che stiamo portando Una limousine gigantesca No no Oh Oh mio dio raga Ero quasi riuscito a passare Che dite? Andiamo a fare un bel Stavo dicendo un bel GP Una bella Amica rampita Facciamo questa curva Ok Eh raga Scusate Ma la limousine è leggermente grande Oh mio dio raga Manopera perfetta Sì sì Allora facciamo questa retterina al massimo Andiamo a fare La miga rampita Ok Ok Veloce Più veloce Rimousine Quella con la moto Dove è finito raga? È vivo È vivo Stare tranquilli Andiamo a fare la miga rampita Olle raga Che dite se cominciamo Dalla miga rampa color? Io direi di sì eh Allora partiamo da Dal celeste Sì sì E dobbiamo indovinare il colore raga Aspettate che stop Rockstar editor Ok raga Possiamo andare Io dico celestino Da dove siamo partiti A parte che prende tipo 6-7 colori Perché è gigantesca Oh mio dio raga Un 360 Dai un 360 Con un atterraggio epico Sui Per favore Basta Basta girare raga Gira troppo Siamo vivi? Veramente? Sì Almeno siamo vivi raga Sono soddisfatto Dai Ohia ohia Ok stoppiamo Rockstar editor È gigantesca raga Veramente gigante Però io voglio fare Qualche altro trick E atterrare bene Che dite un front flip Secondo me Ci possiamo provare Un bel drift Wow Ok raga Che dite se partiamo da qua È leggermente estremo Perché è pieno di macchine Ok ok Siamo vivi Allora io voglio fare Un bel front flip Ok Piano piano Limousine No ci dobbiamo sbrigare No Che sta succedendo? Ok ok Il controllo c'è Però credo che stiamo Andando leggermente fuori No raga Era perfetto Ok Ci riproviamo Allora Leggermente Per di qua Ok Vai 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 Adesso si rigira Ok Dai no no Blocchiamo Blocchiamo il flip Ok ok Aspettate Rimettiamo la limousine Bene Dai che siamo dentro L'amica rampa Wow 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 Sono soddisfatto Che dite Secondo me va più che bene Front flip completato Un front flip leggermente strano Proviamo l'amica rampa ondulata Che dite Sì sì Ok raga Ah no Ho sbagliato Eh sì Aspettate che dobbiamo fare manovra Ok un bel drift No non ha driftato questa volta Che peccato Che è successo È esploso un aereo Sì Credo proprio di sì In questa amica rampa c'era il freno Mi sa di no 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 Wow wow Raga guardate che spettacolo Ce la fa? Sì sì Ce la fa Ce la fa Oddio Un bel ritmo Si può prendere Non credo Ok Un ritmo c'è Sì sì La dovrebbero mettere Eh pure una limusine così Hanno messo il Patriot Stretch Si dovrebbe chiamare Però Ci vuole una limusine così Estrema raga Super super lunga A parte che non si può nemmeno modificare La limusine che c'è su GTA Che sarebbe sempre questa però La versione normale Che peccato Ma comunque sì Però va superata Ce la fa fare Quella amica rampa asfalto Ondulata Questa Limusine Fantastica Oh le ci siamo Ok raga Per concludere il video in bellezza Guardate cosa facciamo Questo wallride L'ho messo io Perché Non si possono fare altri trick Ho provato a fare un cambio Là però non viene Forse con questa Con questo wallride allungato Si può fare Sapete Ok raga Ci proviamo subito Che spettacolo Che meraviglia Allora Dobbiamo fare Così Oh le dai Va bene così Ci buttiamo Comunque sia Se vi è piaciuta questa mega limusine Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale È il suino State del Gesù io E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao